Ragazzi, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Questa è una clip che verrà inserita nel secondo episodio di Minecraft SE. Ve la sto facendo vedere perché non ce la faccio a lasciarvi senza contenuti, ma anche perché voglio farvi alzare un pochettino l'hype. Lo so, la recitazione di questa clip è stata principalmente una buona da prima, proprio perché Crazy era di fretta, perché doveva appunto uscire di casa, non forse possiamo dire sentire per una settimana. Perciò abbiamo deciso di registrare velocemente questa clip, principalmente perché mi era venuta questa quando ero sotto la doccia. In effetti, ultimamente le idee per il video si generano, possiamo dire, quando faccio la doccia, ma vabbè. Ma anche perché sapevamo più o meno tutti noi del gruppo che Crazy doveva spostarsi. Adesso non voglio scocciarvi più di tanto con questo disclaimer, quindi adesso godetevi questa piccola clip. Allora, devo cercare di risistemare le dimensioni, perché devo anche ritornare nella mia di dimensione. Quindi cerchiamo di riattivare la Crazy Tower. Ehi, ma... Ma... Ehi, non sta funzionando. Perché non funziona? Ehi! Oh, no, 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 qua qualcosa non va. Qua qualcosa assolutamente non va. Eh, Blue, T, Waco, Gab, qualcuno! Sì, 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 che succede? Eh, Crazy, Crazy, è tutto a posto. Che succede? Blue, per fortuna ci sei tu. Blue, sta per succedere una cosa terribile. Che cosa? La Crazy Tower non funziona correttamente dopo che mi avete ucciso. I comandi non funzionano più correttamente. Le dimensioni stanno per sovrapporre un'altra volta e quindi sarà ancora più difficile per noi ritornare a casa. Oh mio Dio, adesso che facciamo? Eh, non ho idea, ma non c'è più tempo. Presto, vai, avvisa gli altri. Oh mio Dio, sì, 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 sì. Ok, arrivo, aspetta, vado. Eh, ragazzi, ragazzi! Certo, in questa foresta è veramente immensa. Sono praticamente perso. Ma hai detto sole, non mi sei d'aiuto. Meglio aspettare la notte, così seguo la stella polare. Cosa è quella esplosione? Cosa? Ah, cidenti, che brutta caduta. Ma che è successo? Mi sento diverso. Aspetta un attimo, ma... Questo è Norrondo? Beh, era Norrondo. Beh, l'importante è che sono tornato nella mia dimensione. Spero che anche gli altri stiano bene. Wow. Che vista! Mi dispiace aver fermato i tuoi ragazzi, ma... Ho dovuto farlo. Non devono sapere chi sono. Non ho ancora. Oh, tasti! No, aspettiamoci! No, 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 no! Oh, merda! No, 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 no! Ok, non so dove sono, ma è stato fantastico. Sono tornato in quel mondo di merda. Bellissimo, fantastico. Ok, sono in una pianura. Sarà un'avventura schifosa. No, 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 na... Grazie.